Amanti dello street food? Per la seconda volta torna il TTS Food a Conca d'Oro. Dall'1 al 5 maggio festeggeremo insieme i 5 giorni della festa dei lavoratori nel grande parcheggio di Conca d'Oro, adiacente al Parco delle Valli, per una festa spaventosa. Gli street chef vi delizieranno con le loro specialità dall'Italia all'estero. Non ci faremo mancare nulla. Dalle strade d'Italia abbiamo dei classici della nostra tradizione. Iniziamo con i fritti croccanti tra pizza, supplì e arancine, panzerotti, olive scolane e il cuoppo di vece, i famosi arrosticini di pecore abruzzesi e panini unici con carne sfilacciata di scottona o suino nero iberico. Ma non finisce qui. Tra una carbonara e una matriciana vi imbatterete nella nostra focaccia pugliese o nel polpo arrosto. In un attimo sarete catapultati dall'altra parte del mondo. Un viaggio nel Messico tra burrito, tacos e churros. Continuerete a parlare spagnolo con la vera paella valenziana. O le impanatas argentine. Verrete catturati dal nostro BBQ Smoke American Style. Ma non dimenticate di concludere in dolcezza con i tantissimi dolci espressi come bombe, cialbelle, cannoli siciliani, crepe, maritozzi e tanto altro. E tra un morso e l'altro sorseggiate l'autentica birra bavarese in esclusiva del TTS Food. Oppure un cocktail nella nostra drink zone. E l'acqua naturale ovviamente in brick. Rispettiamo l'ambiente. Un mix di cibo e intrattenimento con DJ Set. Performer e giochi di luce che inizierà mercoledì 1 maggio dalle ore 17 alle 24. E continuerà fino a domenica dalle 12 alle 24. TTS Food è il modo migliore per vivere giorni di relax e ottimo cibo.